Scusate, prima vi faccio un piccolo motivazionale, ricordate voi il cinema morta, quanti se lo ricordano sulle mani? Il cinema morta era il fiammorto al dulce, è stato demolito per farci un parcheggio, poi c'è l'Astra, che adesso come me non sappiamo se li apri, la Storia è stato demolito per farci un condominio, il condominio si chiama Astoria, con la Y, c'è un perché, il Politeama se posso darvi un consiglio non passate sotto le pensierie del Politeama, primo perché è caduta la P, si chiama Politeama, poi perché ci sono delle luci a bocce, erano sei, sono rimaste cinque, io non so quando è caduta la sesta, però non vorrei essere di sotto quando succede, poi c'era il Cinema Centrale, il Cinema Centrale come in un racconto di Dickens, finito male, hanno trovato delle monete d'oro che se ne avessero trovate prima potevano vendere e salvare il Cinema Centrale, ma non è stato così, la storia, la storia abbiamo detto, l'Embassi, che mi dà dei ricordi che io porto qui, il palmo di mano, purtroppo anche lui non c'è più, l'Embassi poi era una chiesa prima era diventata il Cinema che era, l'Embassi ospitò, ma anche lui viene al Cinema, tra le varie cose, come Centrale, mercoledì, è partito, è partito, è partito, è partito da lì, quindi tutto, ma vicino al Cinema, dopodiché cosa avevamo ancora? Il Primo, una churrascheria, dopo essere stato per anni chiuso che doveva diventare un negozio di scarpe, non è diventato manco quello, poi un cinese di lusso che è fallito e adesso è una churrascheria, buona scurrascheria, però non fanno i film, abbiamo dimenticato qualcuno? Allora, noi sulla provincia pubblichiamo sempre che al Cinema Italia, al Cinema Italia, fanno film a luci rosse, forse tu puoi confermarmi che li fanno ancora, qualcuno te l'avrà detto, se per caso li fanno ancora dei film come li facevano una volta prendendo le VHS delle titole di fianco, così mi hanno detto, ho delle serie tipo la prima elementare, il Cinema Italia bisogna di tanto amore al Cinema Italia, che è mancato, insomma, voglio farci tante domande, io non voglio dire, una volta qui c'era il Cinema Gloria, adesso c'è un condominio, forse, o un autosalone, o come mi ha detto Sarino, Colino, una meravigliosa showroom di pompe funebri, perché venne uno che disse, qua tutto il mio showroom di bare per i miei clienti, vediamo di fare qualcosa perché questo non accade, intanto che l'avrà terrorizzata, sta cercando di mettere in piedi un pezzo con la Polizia Santegrani, mamma Santegrani, chi Santegrani, tra l'altro si accompagna un chitarrista che si potesse mettere qua, qui c'è una chitarra, il gente è quel uomo sbagliato, poi mica lasciato, che uomo sei che la lascia qui da solo in mania, Dio vissuti, uomini sconosciuti, scusami, ecco. Grazie a tutti, grazie a tutti.